qui a Ischia per continuare questo progetto di turismo sportivo che dà la possibilità, parlando del calcio, di fare parlare di questa splendida isola. Questa occasione di relazioni ha fatto crescere persone, progetti, idee, aziende che sono mostri intorno a questa isola e persone che hanno conosciuto l'isola e sono tornati, chi per le cure termali, chi per il mare, chi così. E in tutte queste discussioni abbiamo sempre fatto avanti il discorso del diritto sportivo. Abbiamo visto che in questi 30 anni, come eravamo, come siamo, attraverso il mondo del calcio allora tutto era lo spante, oggi è tutto globalizzato. Se ricordate, parliamo del calcio scommesse, il calcio scommesse allora era lo spante si andava nel bar, si tentava di corrompere il calciatore per una posizione sulla schedina oggi è globalizzato, il gioco sporco parte dal lontano Estremo Oriente e arriva attraverso tutte le discipline sportive. Noi viviamo per noi il calcio di quello che sono i tifosi e gli sportivi il calcio è un amore per uno sport che dicevamo nel forum di stamattina di Paolo Coeglio solo di calcio, si può parlare 5 ore ininterrottamente perché è amore e noi dobbiamo vivere questo amore e dobbiamo portare avanti i sani e i buoni valori e allora a questo punto qua cerchiamo di affrontare e di denunziare quelle situazioni critiche come oggi abbiamo parlato degli Stati e abbiamo proposto e faremo le pressioni affinché sia in sede nazionale che in sede regionale si crei un ministero dello sport che non esiste perché altrimenti non si potrà mai regolamentare tutto e anche se partisse questo a livello regionale, se è molto interessante lo sport fa muovere dai bambini fino ai professionisti la più grande azienda economica italiana non può essere affidata all'improvvisazione di chi decide di fare il presidente di una società per i propri interessi personali al di fuori di una logica, occorre un governo centrale questo è stato il tema di oggi ma in questi giorni affronteremo il tema del fair play financing perché gli Stati rientra nel discorso del fair play financing che le società professioniste che vogliono la licenza UEFA devono attenersi requisiti europei altrimenti non partecipano e i requisiti europei sono severi il campo nazionale in appuntamenti che ogni mese noi teniamo come avvocati calcio con l'intervento delle istituzioni forti il sindacato calciatori, gli allenatori, gli agenti FIFA, gli avvocati calcio, gli allenatori ci incontriamo e ne parliamo perché per smuovere per lo meno sensibilizzando le istituzioni e andare avanti quindi concludo problema degli Stati problema dei vivai problema di come spendere i quattrini che vengono dai diritti televisivi non soltanto spendere in calciatori che arricchiscono i procuratori e indeboliscono le società ma investire quei quattrini per patrimonializzare la società valorizzare i vivai migliorare i bilanci